Cedo la parola alla dottoressa Roberta Ghidelli che è direttora dell'ufficio SI di servizio sociale per i minorenni di Brescia. Dottoressa, prego. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. È un tema che mi sta molto a cuore. Il mio ufficio si occupa dei minori che commettono reato e sempre più dobbiamo come operatività introdurre, ma insomma consolidare, introdurre tutti gli aspetti e gli interventi a valenza riparativa. Quindi il tema della giustizia riparativa è un tema che ci attraverso moltissimo. Pensate che sempre di più i ragazzi minorenni che commettono reato lo fanno assolutamente nella totale assenza dell'altro. L'altro è ridotto a un oggetto, un oggetto disumanizzato che è lì per i loro bisogni. Che sia quello di avere dei soldi, quindi la catenina per fare serata, a quello per cosa su cui sfogare, rabbia, rabbia sociale, stanchezze e frustrazioni. Quindi il lavoro che l'equipa psicosocia educativa che lavora nel mio ufficio deve fare proprio questo, accompagnare i ragazzi innanzitutto a sviluppare delle competenze relazionali, quindi delle capacità attitudinali. E lo fa attraverso non solo chiaramente il supporto psicologico educativo, ma attraverso proprio attività esperienziale di incontro. Quindi l'incontro come modalità per far, per accompagnare i ragazzi a scoprire cosa c'è, chi è l'altro, quali sono le conseguenze del proprio agire. Quando arrivano da noi, la prima cosa che ci dicono è qual è la conseguenza, ho fatto soffrire la mamma, questo. Il mondo è questo, no? È un mondo totalmente legato al proprio contesto familiare, anche quando sono reati di maltrattamento che loro hanno agito in famiglia. La conseguenza è la sofferenza perché l'hanno vista piangere, no? Quindi quando l'unico modo per aiutarli a sviluppare è aiutarli a stare dal mondo, a riprendere le competenze che poi hanno, perché poi vediamo che aiutati riescono ad avere delle grandissime potenzialità. Ma questo diventa una forma di accompagnamento che diventa quindi poi anche estremamente utile per accompagnarli all'incontro con il reo. È una parte fondamentale. Poi dopo ne parlerà, ma insomma la magistratura bresciana minorile è estremamente attenta alla riparazione, alla giustizia riparativa, fa molte segnalazioni come procura. Noi come ufficio di servizio sociale vale per i minorenni e lo stesso vale per i servizi territoriali. Ne facciamo di meno rispetto a quelli che fa la procura, ma invece dovremmo sempre di più, no? In questo senso dobbiamo riuscire a implementare questa parte, sempre più fare invii nella parte durante la messa alla prova. Ma fondamentale è questo lavoro che dobbiamo fare di consapevolezza che senza questo noi non facciamo proposte di messa alla prova, perché è la base del lavoro di recupero che noi dobbiamo fare con i ragazzi e aiutarli. Quindi c'è una stretta relazione tra giustizia riparativa del nostro ufficio e vittime, ma poi c'è un altro livello che è quello della giustizia riparativa di comunità. Molti reati dei nostri ragazzi sono rispetto al danneggiamento della comunità, perché non c'è un vissuto di appartenenza con la comunità. Quindi la comunità, che sia la comunità cittadina, che sia la comunità educativa, che sia la comunità educante della scuola, è vista come un altro, un altro lontano da sé, un altro da attaccare di nuovo l'oggettivazione di quello che c'è al di là dell'ombelico. E anche qui dobbiamo sviluppare delle azioni che sono di accompagnamento a vivere il senso di appartenenza a quella comunità. Ripeto, che sia la scuola, che sia la comunità educativa, che sia proprio con la piazza vittoria, per dire una piazza particolarmente vivace e frequentata in termini negativi dai ragazzi che arrivano al mio ufficio. Quindi c'è una strettissima relazione tra giustizia riparativa. Ma è anche vero il contrario, che sempre più penso che il lavoro dei centri di supporto alla vittima nei confronti dei minori e delle loro famiglie potranno aiutare a avvicinarsi all'ufficio di mediazione. Perché l'ufficio di mediazione di Brescia ha ancora una percentuale di famiglie di minori che non accettano la mediazione. Quindi questa è una parte su cui dobbiamo un po' indagare. Quindi relazioni doppie. Però vorrei porre una domanda. Insomma, ne ho parlato prima. È una questione che davvero per me è importante. Noi conosciamo la vittima, il mio ufficio, perché lavora sulla documentazione che il tribunale invia. Dal momento della denuncia, che sia la denuncia a piede libero, che sia una misura cautelare, noi dobbiamo garantire da quel momento l'assistenza al minore e alla sua famiglia. Quindi abbiamo tutta la documentazione. Conosciamo la vittima indirettamente dagli atti che ci arriva dal tribunale. Conosciamo la vittima dallo sguardo dal reo, perché il lavoro di rielaborazione che facciamo è aiutarlo a dire cosa hai pensato, cosa hai visto, cosa hai vissuto, prima, durante, dopo, chi era la vittima, eccetera. Quindi conosciamo la vittima da quel lato lì. Quindi sempre dal punto di vista indiretto. Ma poi c'è un altro problema. Noi conosciamo la vittima anche direttamente. Quando siamo in udienza, quando c'è il processo, siamo lì a garantire l'assistenza al reo, alla sua famiglia, che è una funzione, viva Dio, istituzionale che dobbiamo garantire, e c'è la vittima, la famiglia, da soli. In quel momento l'assistenza sociale ha questa situazione tremenda dal punto di vista etico, deontologico, personale, che si trova a garantire un'assistenza al reo con la vittima da sola. Una situazione di totale asimmetria. A me è capitato una volta che ero andata a garantire questa funzione, richiesta istituzionalmente, durante un incidente promatorio per una violenza sessuale. C'era l'ascolto della vittima. Io sono arrivata, mi sono presentata, e la mamma di questa ragazzina ha sentito che ero assistente sociale, mi ha detto, è qui per me? Io volevo dire no, sono qui per il reo. Mi sarei messa a una fossa, mi sarei nascosta. Quindi è una situazione questa che, secondo me, dobbiamo trovare tutti insieme. Tutti insieme dobbiamo trovare un modo per aiutarla. Io chiedo veramente aiuto, perché secondo me è quello di riuscire a pensare che i centri di supporto alla vittima possono prepararsi all'accoglienza anche delle vittime minorenni, dei reati dei minorenni. È un qualcosa su cui dobbiamo far fronte tutti insieme. Nei tempi, nei modi che ci vorranno, perché chiaramente un conto è offrire un'assistenza alle persone adulte, un conto è ai minori. Ma i vissuti delle vittime, che voi conoscete bene, nei minori diventano dei mazzini, perché quei vissuti lì a 12, 13, 14 anni non elaborati portano direttamente a disfunzioni del comportamento sull'arto del ritiro, del ritiro sociale, delle dipendenze o degli agiti trasgressivi a loro volta. Nella storia, quando i ragazzi ci raccontano la storia, ci dicono, io ho subito, poi dopo sono diventato, magari ho subito quando ero piccolino, mi prendevano in giro, magari non parlavo tanto bene. Poi la pubertà, sono esplose in questi corpi massicci e a quel punto loro hanno agito, agiscono pesantemente. Quindi che cosa ne facciamo di questi? Come riusciamo a garantire questa risposta? Tenete presente che, di nuovo, la magistratura bresciana, il Tribunale per i minori, nella procura è estremamente attenta. Qualche giorno fa ne parlavo, in vista anche dall'incontro, non mi confrontavo, e la massima disponibilità mi è stata detta da parte della procuratrice, la dottoressa Tondini, organizziamo un incontro, parliamoci, perché quello che vediamo noi lo vedono anche loro in udienza. Quindi questo è un bisogno che davvero dobbiamo trovare tutti insieme, ma tutti insieme, in questo senso davvero le reti sono importanti, perché dobbiamo riuscire a parlare. Io non so dirvi in che modo, non so neanche dirvi quanti potrebbero essere queste persone minore, più famiglia, più famiglia, da poter prendere in carico, perché è tutta una situazione da studiare. Tenete presente che indicativamente, annualmente, vengono aperte 600, 700, 800 situazioni sulla corte d'appello, quindi le quattro province. Parte sono reati verso gli adulti, parte verso la comunità di danneggiamento, parte verso i minorenni. Quindi avremo quanti? 200, 300? Non lo so, perché non è mai un conto che è stato fatto. Io il mio ufficio ha tutti i dati, tutti i nomi e i cognomi delle vittime minorenne e adulte. Però qui bisogna poi ragionare insieme e capire, pensiamo a un unico reato, pensiamo a un'età, pensiamo, non so, però dobbiamo fare un ragionamento. Quello che io chiedo è proprio questo, aiutateci a rispondere a questo bisogno. Grazie. Perfetta, oserei. Allora, ringrazio ancora la dottoressa Ghidelli che ci ha dato uno spunto bellissimo, ci ha raccontato del passaggio, parlava dei minori, degli autori minori, ma insomma, di sentire che l'altro è oggetto che è lì per il proprio bisogno, ad arrivare a pensare che invece io sono lì per il bisogno dell'altro, che è una cosa importante. E mi piaceva molto pensare che questa riflessione che lei portava, la portava come esperienza, ma la portava anche come rappresentante di un ufficio di giustizia. Mi piaceva pensare che la giustizia stava incominciando a farsi la domanda, come posso essere presente per il bisogno dell'altro, quindi se la vittima in cominciano a pensare cosa io giustizia, istituzione giustizia posso fare per l'altro. E questo avverbio fantastico che ha usato dell'essere immediatamente presenti per tutti, quindi anche per le vittime, e credo che sia una chiave di lettura assoluta, che bisogna tenersi stretto e che casualmente, ma nulla è per caso, mi sembra anche un preziosissimo gancio proprio per introdurre la dottoressa Rosanna Tremante che fa parte della Rete Daphne Italia per Rete Daphne Torino. A lei la parola.